È necessario che il dialogo con la Regione Lazio riparta subito, ci sono temi da affrontare con urgenza, lo afferma Jessica Veronica Faroni, presidente dell'IOP Lazio, l'associazione che riunisce le cliniche private della Regione. Attraverso un comunicato la presidentessa Faroni chiede un dialogo aperto su tutti i fronti, ammettendo però che sui controlli delle cartelle cliniche il confronto è arrivato e la questione in parte è già risolta. Un tema per il quale l'IOP si era molto battuta, denunciando penalizzazioni eccessive per la sanità privata accreditata e ottenendo dei risultati. Dopo un difficoltoso dialogo con la Regione, spiega in una nota la presidentessa dell'associazione, si è riusciti a strappare in materia di controlli importanti promesse al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. È stato un percorso molto faticoso, durante il quale le nostre strutture sono state aggredite pesantemente da un punto di vista economico, ha detto la Faroni. Con un emendamento alla finanziaria regionale alla fine, le richieste delle cliniche private sulle cartelle hanno ottenuto delle risposte. Si è dato inizio ad una riforma che certamente richiederà ancora dei tempi per essere completamente compiuta. Un primo passo, ha spiegato la presidentessa, ma la battaglia per rettificare una norma che ancora oggi è considerata sfavorevole per gli antiprivati continua. Ora, per le strutture private accreditate c'è la possibilità di affrontare il pagamento della sanzione in misura ridotta ad un terzo, qualora si paghi entro il termine dei 60 giorni dalla notifica della sanzione stessa. Inoltre, è stata prevista la possibilità di rateizzare l'importo così determinato sino a 20 mesi. È solo l'inizio. I controlli per tutti noi sono una garanzia di una corretta erogazione delle prestazioni, ma è necessario anche tutelare le nostre strutture penalizzate da una normativa troppo stringente e iniqua, conclude Jessica Veroni Caffaroni. Ora è necessario che il dialogo riparta su tutti i fronti. Noi siamo sempre al fianco del sistema sanitario nazionale, affinché questo dia ai cittadini garanzia di cura e tutela della salute.